Quell'arteria è di vitale importanza all'intero comprensorio, ma parecchi sono stati gli investimenti di Alcamesi nel settore turistico ricettivo nella zona del Castellammarese. Siamo in prima linea a fianco di tutti gli enti che hanno autorità e competenze in questo momento su questa situazione che ovviamente interessa tutti, non solo Alcamo e non solo Castellammare, ma dicevi bene tutto il territorio perché è una strada che collega due località fondamentali e non solo, non solo Alcamo e Castellammare ma tutto ciò che di più bello abbiamo da questa parte della Sicilia, quindi c'è un impegno massimo, una collaborazione che già dalle prime ore dell'accaduto è attiva, avremo peraltro un sopralluogo lì con la regione, insomma credo che tutti hanno e abbiamo l'interesse a far sì che prima possibile il ponte venga ricostruito. Consiglio comunale congiunto tra le due municipalità. Credo sia un segno tangibile di questa collaborazione, della politica che quando serve si mette insieme al di là addirittura degli staccati territori dei confini, ma è il caso di dire che questo certifica questa unione territoriale tra i nostri comuni per far sì che prima possibile arrivino non solo gli aiuti, finanziari, ma che ANAS e chi dovrà fare il progetto si attivi immediatamente. Nell'attesa appunto delle lungaggini burocratiche a cui purtroppo il tempo ci ha insegnato è prevedibile un qualcosa di struttura temporanea, magari non sono un esperto, però che so, un ponte affidato al genio militare? Sono state fatte delle ipotesi ma non sono in condizione di dire quella sia la via migliore, siamo in costante monitoraggio perché è anche importante, forse quello che in questo momento ci interessa di più, anzi certamente, è evitare pericolo per le persone. Noi dal lato Alcamo abbiamo già attivato fin dalle prime ore il nostro monitoraggio e si sta facendo anche dal lato Castellammare per l'evoluzione della parte rimanente del ponte che laddove dovesse cadere, speriamo di no, potrebbe creare ulteriori problemi, soprattutto per i terreni e per le abitazioni vicine. Dopodiché aspettiamo che il tempo sia, da questo punto di vista, ci venga incontro in maniera tale che i tecnici, a partire dal genio militare, poi ci dicano quali sono le alternative possibili. Ma fino a poco fa ho sentito Anas e il sindaco di Castellammare, quindi tutta la macchina è attiva. Un consiglio comunale congiunto verrà redatto un documento da inviare a che? Tutti gli enti, a partire dalla regione, Anas, tutti coloro i quali hanno competenza in questo momento. Credo che l'obiettivo della politica comunale, e non solo, sia quello di stimolare soluzioni. Qui non c'è assolutamente ragione, soprattutto in queste prime fasi, di andare oltre quello che è il ruolo legittimo e corretto che i territori possano fare, cioè chiedere delle soluzioni immediate. Ci ha messo di fronte ad una realtà, che sono due centri che ormai fortemente sono correlati tra loro. Quello è il punto di unione esatto tra Alcamo e Castellammare. Chiaramente ne avremmo fatto volentieri a meno di questa esperienza. Per fortuna e grazie a Dio non ci sono danni alle persone, però è chiaro che, come già abbiamo detto, l'impatto economico di questo crollo sarebbe devastante. Per cui dobbiamo far sì, ecco che soprattutto poi con l'approssimarsi alla stagione estiva e primaverile, ci facciamo trovare pronti, quantomeno con una soluzione di comodo. Ma io sono convinto che ci sono tutte le condizioni per arrivare ad avere il nuovo ponte prima possibile.